Allora andiamo avanti, Enzo Zauli, migliore di te stesso. Buongiorno a tutti, migliore di te stesso. Il vantaggio da arrivare adesso, per me, è che le due persone che hanno parlato prima di me hanno trattato, a differenza di altri interventi, degli aspetti evolutivi, degli aspetti comunque molto comunicativi fra persone. Mettere in comunicazione tecnici perché vedono filmati, mettono in comunicazione, il penultimo intervento, centri di interesse ambientale con aziende che fanno business. Quindi cose molto diverse. Avremo modo in queste brevissime chiacchierate che andiamo a fare di capire perché è questo. Migliore di te stesso. Migliore di te stesso parla da un concetto che noi l'unica gara che la facciamo è contro noi stessi. Noi domani possiamo fare qualcosa e l'unico che possiamo abbattere o combattere sicuramente siamo noi. Noi siamo il nostro più grosso competitore, il nostro concorrente. Ecco, migliorare continuamente. In questa piccolissima presentazione ho cercato di togliere tutti i termini che non erano italiani, naturalmente. Migliorare continuamente partendo da se stessi, che da qualche anno va di moda a chiamarlo Kaizen, che viene dall'Oriente. Quindi migliorare continuamente partire comunque sempre da noi stessi. Il cambiamento deve essere dentro di noi. Possiamo cambiare quelle piccole cose quotidiane. confrontarci quindi con quello che facevamo prima, perché domani possiamo fare il meglio di oggi se ci confrontiamo con quello che abbiamo fatto oggi. Se ci ripetiamo che domani facciamo quello che abbiamo fatto oggi sicuramente ci andrà peggio. Ogni volta che rifacciamo la stessa cosa fatta il giorno prima ci viene peggio e questo lo sappiamo già noi. Ma la cosa più importante è che noi, cambiando e miglioriamo, perché ci misuriamo. Qualcuno di voi va a fare, non io, ma maratone o comunque corse, competizioni in cui c'è una lunga preparazione prima di un evento. Quando io devo migliorare la mia performance, quotidianamente misuro le tappe e ogni giorno vedo di fare qualcosa in più. Posso migliorare se ho misurato quello che ho fatto ieri. Se io vedo solamente quando ci metto a fare la maratona, probabilmente è un dato talmente grossolano che non mi permette di cogliere i punti in cui io devo migliorare. Quindi questo sicuramente è un aspetto. All'esempio del miglioramento, non possiamo non parlare di Google perché oggi era una giornata in cui parlavamo anche di tecnologia. In realtà Google ha fatto quello che in italiano si chiama il progetto ossigeno. Ha chiesto, dato che sono i maghi dell'algoritmo, hanno cercato un algoritmo che possa esprimere il concetto del vero manager di successo. Dopo le interviste a 10.000 persone è emerso che la regola aurea di tutto per il loro manager è segui sempre te stesso. Quindi la regola aurea per il manager di Google è segui sempre te stesso. Fra le otto regole le prime tre sono comportati come un buon allenatore, sappi ascoltare la tua squadra, mostri interesse nel successo dei tuoi uomini. L'ultimo in termini di importanza è che il tuo manager abbia tecniche particolari, quindi abbia specializzazioni o tecniche specialistiche molto molto importanti. Dicono, l'hanno pubblicato su internet, che il rendimento del manager a questo punto è aumentato fino al 75%. Il momento in cui i team si sono resi conto e hanno focalizzato questa importanza e si sono messi ad ascoltare la squadra e a comportarci come gli allenatori. Ripeto, gli ultimi due interventi che abbiamo visto portavano molto in evidenza il fatto che chi conduceva questa comunione di visioni doveva portarsi a casa la condivisione di concetti da una squadra che era all'opposto rispetto all'obiettivo di chi avanzava. Logicamente in tutte le aziende troviamo una cosa molto molto semplice che è l'abitudine a fare sempre stesse cose, l'inerzia. Quindi dobbiamo fare in modo che noi garantiamo uno sviluppo tramite l'innovazione che diventa l'unico argomento o uno dei pochi argomenti che ci permette di combattere l'abitudine e l'inerzia. Perché le aziende si fermano, qualcuno prima diceva io non trovo clienti, non ci sono più i clienti. La persona dice che piccole e medie imprese non si cercano i clienti e di conseguenza non le troveranno mai. Cioè se non troviamo l'innovazione, se non mettiamo un movimento dentro l'azienda sicuramente non abbiamo risultato. E questo logicamente parte dagli uomini o sono gli uomini a provocare l'innovazione altrimenti non si può uscire da questo impasse. L'innovazione per Starbucks. Starbucks lo conoscete, ha 7.000 negozi nel mondo, ne ha chiusi anche un migliaio poco tempo fa. Uno dei suoi problemi che aveva nel costo del prodotto che somministrava ai clienti è che stava perdendo marginalità. Quindi il costo della bevanda che andava a servire aveva un costo che si alzava troppo, non riuscivano a governarlo. Quello che hanno fatto, hanno creato la linea latte. La linea latte è stata creata non da un management illuminato ma ad una serie di incontri, di innovazioni, di attività fatte a livello della persona che era al banco per riuscire a capire cos'è che metteva questa problematica nella somministrazione del latte. Qual è il problema? Che questi bicchieri vengono forniti, viene fornito dentro il latte frullato con il ghiaccio senza e l'operatore che deve fornire il latte non sa bene, essendo o ecuadoregno o americano, italiano o di qualsiasi razza, non sa bene quanto latte ci vuole. Di conseguenza tutti stavano un po' abbondanti. Quando c'era il ghiaccio dentro anche lì i livelli cambiavano di continuo. Tutti stavano abbondanti in alto naturalmente e questo diventava un problema nella distribuzione del costo del prodotto. L'innovazione qual è stata? Definire due righe all'interno della bicchiere, qui c'è scritto una ma sono due righe, una latte senza ghiaccio, una latte con ghiaccio. A quel punto qualsiasi persona che non avesse le cognoscenze incredibili poteva sapere quanto latte metterà all'interno. Ma questo perché? Perché le grandi aziende o comunque i grandi movimenti di persone comunque hanno sempre bisogno dell'innovazione e del movimento che gli uomini ci possono dare. Logicamente con questa cosa qui ha permesso a Starbucks di riguadagnare spazi sulla redditività, logicamente parliamo del costo materia prima nel prodotto. Vi ho usato un argomento che mi sembrava molto banale, però considerate che le grandi aziende hanno bisogno di piccoli passi per poter determinare grosse politiche di cambiamento, grossi step. Perché il fatto stesso che ci siano dentro mille manager che hanno avuto bisogno dell'ultimo, forse colombiano che in un corcesso ha generato una serie di acquisizioni di informazioni è stata una cosa che ha fatto per ripensare una serie di altre situazioni. Quindi sono cose che devono per forza passare da una condivisione più allargata. Condivisione più allargata, un argomento che viene trattato molte volte, è il leader facilitatore, cioè un leader che, mando avanti tutto, un leader che non imbriglia, ascolta le diversità, condivide le informazioni, e si esprime e ascolta gli altri, affronta argomenti cabù, crea trabù, crea connessione con gli altri, ha le competenze, si concentra sul punto delle capacità, si autolimiti, in cui gli altri è posizionale, fa una sintesi efficace dei contributi. Logicamente, per fare una sintesi efficace dei contributi, bisogna capire l'importanza del confronto. Cioè, al di là che un manager si trova in una situazione con un team, in otto persone, dieci persone, tre persone, deve riuscire a confrontare bene quelli che sono i contributi che gli stanno arrivando. Di conseguenza, logicamente, deve capire, deve trovarla rotta nel caso che questo team debba ritrovare un mercato per problemi di prodotti forse non sfavorevoli a causa di altri concorrenti. Deve rendere concreto quello che potrebbe sembrare uno slogan, quindi l'attività che è la crisi diventa opportunità. Da un po' di tempo tutti diciamo che la parola crisi contiene all'interno dei due grammi orientali, crisi è composta dal concetto di rischio e opportunità. Quindi, questa è una cosa che va molto in modo a dire oramai. In realtà, bisogna tramutare all'interno di un team questa cosa in una realmente un'opportunità. Ed è logico che il confronto lo deve andare a fare perché hai questi tipi di problematiche che ti pongono davanti di lo start-up del lavoro del team. Come il cambiamento deve partire dalla capacità della persona invece sia nella propria giusta prospettiva perché? Perché comunque il tema del confronto è ascoltare, farsi ascoltare e bilanciare bene certe situazioni. Se qui davanti avessimo delle aziende quello che andremo a dire alle aziende oggi parlando di miglioramento continuo al di là dei quattro uomini che compongono la casina il puzzle che compongono noi sappiamo che un dipendente lascia un'azienda parte per il denaro se ci hanno mancato interesse nella mission se ha dei problemi con i colleghi e se ha un capo terribile terribile significa un capo che non lo ascolta è un capo che dirige solamente quindi direttivo che non dà a lui non gli dà un riscontro. Logicamente il discorso che sembra banale gli impiegati sono capitali più significativi dell'azienda le aziende si sono fatte grandi con delle idee ma con delle persone che le hanno portate avanti quindi la giornata di oggi secondo me è stata molto bella perché abbiamo visto delle ottime idee ma delle ottime persone che le hanno portate avanti negli ambiti più disparati se questa qui fosse stata un'unica azienda quella che abbiamo visto oggi io fosse il mestiere delegato a Betaro sarei molto contento perché tutti i settori che abbiamo visto fino a questo momento mi fanno pensare che ognuno fa con volontà con precisione la propria attività e ha un obiettivo molto chiaro è logico che nel momento in cui un'azienda ha degli impiegati o delle persone che hanno una focalizzazione su innovazione su confronto su tutta una serie di perni l'azienda stessa ricepisce il valore o questo comunque è quello che noi formatori e organizzatori di aziende siamo portati a fare è un bene che una volta creato ha una cellula che può essere utile sia per quell'attività sia per altre innovazioni che possono avvenire in azienda quindi una cellula un'attività di facilitazione del team di lavoro così diciamo concretizzato rispetto a un progetto è un valore che per l'azienda serve molto tempo per crearlo ma è un valore difficilmente ricostruibile in poco tempo quindi questo è un po' diciamo se fessimo qui davanti un'unica azienda ecco in finale perché è stato molto stretto proprio perché i concetti sono talmente ampi che abbiamo cercato di ridurli al massimo in modo che sia materiale che poi se volete lo chiedete all'organizzazione ve lo può consegnare tranquillamente per rifletterci in futuro cosa dobbiamo ricordarci due cose che tutti abbiamo già sentito probabilmente la prima che leggo quella dell'arte della guerra ci dice che in caso di guerra l'importante è vincere e vince solo chi sa programmare in modo che quando si scende in campo si ottenga il massimo profitto nel miglior tempo possibile meglio se senza combattere o col minimo di perdite questo mi fa ricordare una cosa i conflitti in azienda che a volte sono causati sono fatti a volte capitano lasciano sempre delle ferite con delle cicatrici c'è da pensare a questo il non combattere a volte da un vantaggio competitivo perché non si perde tempo su un argomento che forse era già di ieri e probabilmente si va a implementare una serie di situazioni che sono negative rispetto al lavoro che dobbiamo riprogettare domani quindi anche oggi si è pensato in qualche intervento di oggi è uscito l'aspetto ci preoccupiamo del domani stiamo studiando sul domani più analizziamo l'oggi che è diventato già uno ieri e più facciamo fatica a trovare delle soluzioni poi che l'esperienza se al nome che diamo i nostri errori quindi più ti sbagli più crei esperienza ma non deve essere su come hai creato un errore che tu costruisci il prossimo progetto sull'errore lo costruisci l'esperienza quindi riesci a fare un'altra attività il piccolo principe se vuoi insegnare i tuoi marinai a fare una barca non portali in cerca della legna non insegnargli ad abbattere gli alberi fagli ricordare il mare e racconti come si vive al mare questo gli esempi sono mille la comunicazione in questi anni per fare un esempio ci ha insegnato come vivono quelli che hanno certe cioè George Clooney ha preso il posto ha preso il posto di Fastweb di Valenti Rossi in Fastweb con delle logiche legate non a fruitore del telefono ma a una persona che vive sempre in connessione cioè l'attenzione qual è io posso motivare una persona che con me gli posso dare delle indicazioni ma non devono essere legate a un risultato che quando lo tiene finisce lì perché tu insegni alla persona a battere gli alberi ha battuto dieci alberi dopodiché non sa cosa fare io devo portare una persona verso un'esperienza che è quella di vivere in un ambiente vivere in un certo modo e se una persona vive e nei team con cui lavora trova dei risultati e il suo obiettivo è sempre innovazione non l'obiettivo è fare una sedia con tre gambe l'obiettivo suo non sarà preoccupato di arrivare alla sedia con tre gambe l'obiettivo sarà io devo arrivare alla rinnovazione in questo tempo con questi costi con queste procedure quindi queste sono due cose l'ultima cosa di Seneca che viene molto molto lontano non esiste un evento favorevole per il marinare che non sa dove andare io su questa cosa qui dico con dei manager a volte quando non sapete dove andare vi prendete un giorno di ferie due giorni una settimana non fatevi vedere perché probabilmente voi non avete nulla da dire se da dire è sbagliato e se dite qualcosa di sbagliato il danno non siete voi ma tutti quelli che faranno qualcosa di sbagliato assieme a voi quindi prima questa cosa è stata un po' detta bisogna fare attenzione noi lavoriamo facciamo delle cose che devono piacerci l'abbiamo visto ripeto vado negli ultimi due interventi perché per memoria sono gli ultimi due che abbiamo visto ma potremmo tornare anche fino al primo ci sono delle cose che se c'è la persona centrata che ha l'obiettivo e sa quello che deve fare lo può fare bene se si sbaglia si corregge ma se uno non sa quello che deve fare non sa dove deve andare tutto quello che inizia a muovere è in maniera catastrofica realmente impossibile da portare avanti senza fare riferimenti a politico sport o altre robe di questi giorni però se non sai dove devi andare il consiglio è il bene per l'azienda fai un giorno di ferie perché è una cosa più utile per tutti l'ultima cosa l'ultima cosa oltre a grazie rivederci per ringraziamento Alessandro Montelli che ha curato tutto l'editing e ha ristretto diverse ore di presentazioni in un quarto d'ora quel puzzle che abbiamo visto seguirci dall'inizio è il puzzle che io cerco di far seguire quando faccio le mie attività nelle aziende costi tempo obiettivi soluzioni costi un'azienda prima di partire in un progetto deve sapere cosa spende se uno sa cosa spende non fa nulla tempo in quanto tempo si dà un termine perché se ogni azienda ha il suo tempo in sei mesi due mesi un giorno vuole arrivare a un obiettivo l'obiettivo deve essere chiaro e devono essere chiare le soluzioni che usiamo per arrivarci e qui sono tutte chiavi che poi il coach che abbiamo prima sono tutte attività che quando chiarisci queste riesci a fare delle cose non ho altro a dirvi grazie domande? 9.5